Ciao a tutti, bentornati! Oggi ci trucchiamo insieme anche perché vorrei mostrarvi un po' di prodotti novità alcuni dei quali non li ho ancora provati, altri invece che sto testando da poco ma che avevo voglia di mostrarle all'opera insieme a voi e io partirei quindi subito dal prodotto Labbra parto da, visto che ho le labbra molto screpolate, dal prodotto di Dior che è il Color Reviver ed è il Cherry Oil, non è altro che un balsamo Lab, che è un olio Labbra super idratante e che sto amando chiaramente sotto la mascherina non è consigliato perché si attaccherebbe completamente però io anche in casa o prima di truccarmi, insomma per idratare le labbra quando le sento particolarmente secche lo applico, sto applicando adesso invece il correttore di espresso, il D.A.B.C. Concealer nella colorazione universale, è un correttore che di primo impatto non mi è piaciuto però adesso che lo sto utilizzando un po' più frequentemente lo sto apprezzando molto di più perché ho capito anche come applicarlo preferisco infatti applicarlo con un pennello avrei da ridire sulla colorazione perché secondo me fare un'unica colorazione universale non è proprio il massimo perché non è possibile che questa colorazione vada bene a chiunque infatti per me è abbastanza giallastra però non so, secondo me farne due una chiara e una scurissima non so, è una politica che forse non condivido appieno applico il fondotinta e vado ad applicare il fondotinta di Nars questo qui non l'avete mai visto all'azione però è un fondo che mi piace da morire lo applico con una spugnetta con una blender è un fondo che adoro che mi sta piacendo un sacco ha un effetto coprente ma non opaco quindi se cercate un fondo super matt non è lui ma comunque non fa venire fuori assolutamente il sebo in eccesso è bello perché dona anche una luminosità che mi piace molto la coprenza chiaramente è stratificabile quindi se volete una coprenza un po' più alta questo fondo riesce a darvelo magari andando a fare un doppio strato e a me basta applicarne soltanto uno magari se poi ci sono delle zone che vorrei coprire maggiormente ovviamente vado di seconda applicazione mi piace anche applicarlo con la spugnetta bagnata rispetto magari al pennello perché secondo me con la spugnetta penetra meglio il prodotto all'interno della pelle e anche magari con la spugnetta bagnata secondo me si fonde meglio rispetto al pennello che si va bene però andandogli ad applicare in entrambi i modi preferisco nettamente la spugnetta fisso il tutto con la cipria di Hourglass una cipria favolosa ho abbandonato tutte le cipre che avevo per lei perché mi piace tantissimo mi leviga benissimo tutta la zona dei pori dilatati mi fissa il make up in maniera perfetta e devo dire che mi piace anche il fatto che mi mantenga anche la zona un po' più oleosa del viso magari la zona T riesce comunque a tenerla abbastanza opaca quindi assolutamente cipra preferita mi piace anche l'effetto leggermente luminoso è anche dato dal fondotinta chiaramente però anche questa cipria secondo me fa il suo vado di terra e applico la terra di Nars nella colorazione Laguna che in realtà è sempre la stessa ma con il nuovo packaging io ce l'ho tra l'altro nella versione in mini size cioè in travel size un po' più piccolina è una terra che l'avevo già provato e che ho sempre amato mi è sempre piaciuta perché è molto sfumabile sembrerebbe anche un po' giallastra o comunque aranciata ma posso garantirvi che si fonde bene è molto sfumabile non vi fa macchia non faccio un contouring molto evidente ma semplicemente vado a scaldare un po' l'incarnato ma vado comunque leggera tra l'altro l'olio di Dior riesce a donare una morbidezza alle labbra istantanea io oggi avevo le labbra ho le labbra particolarmente secche e disidratate con quest'olio le labbra tornano a vivere il blush che applico è il blush di espresso è il loro glassy blush che ha questa formulazione texture molto particolare infatti si presenta completamente trasparente e gelatinoso ma andandolo a picchiettare poi sulle guance fa venire fuori subito il colore questo qui d'estate secondo me è spaziale perché riflette un sacco ed è tanto luminoso lo adoro, mi piace tanto la colorazione poi è bella perché è questo rosato che dona proprio questa luce sana al viso che mi piace passo alle sopracciglia e utilizzo la matita di Benefit la Goof Proof Brow Pencil una matita comodissima che pensavo dovesse consumarsi nel giro di due settimane invece ce l'ho da più di un mese la mina c'è ancora perché per fortuna la mina non è molto morbida quindi non si consuma facilmente quindi motivo per cui mi sta durando tanto e quindi questa cosa la apprezzo un sacco il colore è il mio è perfettamente il mio e nella colorazione 4 in realtà qui sono andata un po' a caso come sempre perché le matite per sopracciglia puntualmente mi mettono in difficoltà però è molto semplice davvero proprio anche per chi è alle prime armi è una matita facilissima vi permette di disegnare anche il pelo perché la punta ha proprio la forma di un pelo quindi è semplicissima da applicare fisso le sopracciglia con il prodotto di Benefit il mascara il 24 ore brow setter anche lui formidabile non le indurisce ma le fissa benissimo è trasparente quindi non funge proprio da mascara fissante e non da mascara riempitivo ma mi piace un sacco come mi tiene le sopracciglia vado di illuminante utilizzo questa palette di Dior la Dior Backstage nella colorazione Rose Gold è una palette troppo bella le polveri di questa palette sono sottilissime impercettibili non vi fanno venire fuori le imperfezioni io poi utilizzo un sacco questa chiara ma anche la rosa la utilizzo ma questa qui color champagne è proprio bella costicchia un po' però per la tipologia di polveri illuminanti che amo io quindi sottili quasi impercettibili che si fondono bene lei è perfetta quindi per me comunque ne valsa la pena anche se è una palette abbastanza high cost passiamo agli occhi e voglio provare con voi questa palette di Too Faced la Gingerbread che fa parte di questa collezione di palettine in latta di Too Faced che tra l'altro sto collezionando ce l'ho anche nella versione estiva ne ho presa una ieri quindi le sto collezionando all'interno le colorazioni sono particolari e secondo me molto belle è uscita a Natale ma non la trovo per niente natalizia anzi io penso che anche ad agosto le posso tranquillamente utilizzare però il packaging è prettamente natalizio perché c'è questo pan di zenzero troppo bello andrei a prendere questo marroncino per la piega forse dovrei avvicinarmi un po' con la camera prendo questo marroncino nella piega dell'occhio la profumazione che emanano queste palettine che è troppo buona infatti questa qui sa un sacco di zenzero poi hanno queste cialde super pigmentate vedete anche questo marroncino per la piega per togliere un po' di arancione in eccesso vado a prendere sempre con lo stesso pennello prendo poi questo rosa per andare ad attenuare e a smorzare un po' di caldo del colore marrone io poi tra l'altro ultimamente sono in fissa con le mie palpebre perché ritengo che siano cadenti e che siano troppo piccole cioè se chiudo gli occhi non so vorrei tirare tutta questa parte qui dell'occhio se è possibile con un pennello un po' più piccolo prendo questo viola oggi azzardiamo un po' cioè guardate come sono pigmentate andiamo verso l'esterno io trovo che siano proprio semplici da utilizzare queste palette io non sono una makeup artist non mi ritengo una brava truccatrice ma insomma conosco riesco comunque a riconoscere un ombretto valido o no o comunque semplice anche per per chi come me comunque non è espertissima ma si diletta semplicemente cioè riconosco magari quegli ombretti proprio semplici da utilizzare anche per le inesperte ecco questi qui trovo che sono molto semplici voglio azzardare voglio prendere questo fucsia un po' più acceso e vado a picchiettarlo al centro della palpebra questi qui pur essendo opachi la pigmentazione resta comunque alta con un pennello da sfumatura prendo sia il viola il primo viola utilizzato che il marroncino li prendo entrambi e vado a ricongiungere poi la parte inferiore dell'occhio delle ciglia con un pennello piccolino prendo questo bianco che è un illuminante shimmer che mi sta piacendo tanto e sto utilizzando tanto perché è proprio luminoso e dà una luce bellissima e poi applicato anche su un altro ombretto su un altro colore è davvero molto bello vado nell'angolo interno e poi vado leggermente verso la palpebra andrei adesso a pulire un po' i bordi dell'ombretto forse avrei dovuto comunque fare la base dopo non ho proprio questa abitudine di fare la base dopo ma mi viene così spontaneo che non ci riesco non riesco proprio per fortuna questi ombretti non fanno fallout anzi io direi per niente quindi non non ho grossi problemi poi per rimediare come sempre ho fatto un trucco non da meglio però qui riesco ad esprimermi proprio all'ennesima potenza mi diverto come non mai faccio venire fuori un po' la parte un po' più creativa e utilizzo l'eyeliner di Tarte che tra l'altro ha da una parte l'eyeliner in feltro dall'altra tipo matita lamina io andrei leggera visto che il trucco è abbastanza importante andrei a fare un piccolo eyeliner con la matita abbastanza sfumato con una piccola riga poi questo è molto semplice da applicare con un pennello vado a sfumare per rendere un po' meno netta la riga d'eyeliner applico il mascara di Anastasia anche questo qui è una new entry e mi piace tanto lo sto utilizzando tutti i giorni e mi piace un sacco lo scovolino ed è un mascara che pettina bene le ciglia non fa i grumi e lo scovolino non è troppo grande ma ha una giusta dimensione mi piace tanto mi piace davvero tanto un'altra cosa importante di questo mascara è che non perde prodotto durante l'applicazione cosa che mi capita soprattutto con i mascara che hanno gli scovolini un po' più grossi un po' più cicciotti e che prelevano troppo prodotto con quei mascara mi capita di perdere pezzi sul viso chiaramente di sporcarmi il che mi infastidisce un po' infine passiamo al rossetto e voglio questa volta applicare il rossetto di espresso il mio è l'aroma che secondo me non c'entra nulla con il trucco occhi che ho fatto in realtà il trucco occhi mi è venuto non so durante non l'avevo proprio pensato ma avevo pensato che questo rossetto andasse comunque bene io ci tenevo a mostrarvi questo rossetto perché è un rossetto che mi piace tanto e mi sta dando un sacco di soddisfazioni oltre che per il colore che mi piace un sacco è proprio il nude che piace a me sicuramente io acquisterò tutte le altre colorazioni di espresso perché molte mi piacciono mi piace però soprattutto per la performance perché è molto cremoso colorano bene le labbra perché è molto pigmentato è confortevole non tira non vi secca le labbra e chiaramente non hanno durata lunga quanto matt però ha una discreta durata poi chiaramente ha un sacco di caffè quindi se vi piace il caffè potreste addirittura mangiarlo io ho terminato questo era il mio make up un po' pazzo un po' così che non so da dove mi sia uscito però oggi forse ero ispirata non lo so e nulla io come sempre vi mando un bacio fatemi sapere giù nei commenti se vi è piaciuto il make up se conoscete già tutti i prodotti che io ho utilizzato e nulla vi mando un bacio e noi ci vediamo presto ciao